Il bello e il cattivo tempo, torniamo alla cometa, siamo su una spiaggia che non è una spiaggia ma è la spiaggia dove Paola Minaccioni è una splendida protagonista e siamo in compagnia anche dell'autore e regista Luca Bey, giusto? De Bey, tanto io se non sbaglio qualcosa quando faccio l'intervista ormai ci siamo abituati. Paola, noi ti abbiamo visto ieri alla prima, sei stata fantastica, eccezionale non è regalato, è un complimento vero. Grazie. Come hai voluto affrontare questo testo? Per chi ancora non ti ha visto e come, perché? Ma appunto, perché? Perché amo da sempre la scrittura di Luca, di Luca de Bey, quindi da un po' che cercavamo il progetto giusto questo, la spiaggia, mi sembrava una bellissima sfida, proprio una sfida, veramente mi sono trovata, non so se avete visto il trono di spade ma mi sono trovata come John Snow di fronte alla grande barriera e quindi è stata veramente una scalata e come l'ho affrontato? Ma come affronto quasi tutti i lavori, insomma lasciandomi un po' andare, un po' guidare un po' seguendo l'istinto e tutto quello che il testo mi poteva evocare e questo è molto, è pieno di immagini poetiche e anche di racconti sulla natura, insomma, che ti evocano spesso delle emozioni o dei ricordi, no? Quindi lavorando proprio sulle associazioni, insomma, diretta da Luca, sono contenta. Sicuramente è un testo drammatico, insomma, un testo emotivo e quindi era tanto che, no, era la prima volta che affronto un monologo, proprio un monologo di questo tipo. Ho fatto, ho avuto altre esperienze di teatro drammatico, non comico, però questa, diciamo, è stata proprio la prima volta, sono una vergine da questo punto di vista e forse è per questo, questo è stato forse il vero motivo per cui volevo essere una vergine. Non è la solita Paola Minaccioni che siamo abituati a vedere con i personaggi, qui c'è proprio la forza dell'attrice che, devo dire, è uscita in pieno. Grazie. Quindi, vuoi fare una domanda tua a Luca? Così mi eviti l'impasso. Luca, quando hai scritto questo testo e perché? E pensavi a Paola Minaccioni, sicuramente. No, non mi conoscevo. No, non pensavo a Paola, ho preso invece il fatto che io ho iniziato a scrivere questo testo 25 anni fa, ed è uno dei testi con la più lunga gestazione. Io non ero nata. Non era nata, esatto. No, ma in realtà questo è un testo che non nasce da un programma, cioè da un'idea di mettere in scena per una produzione, per un attore. È proprio uno dei testi che nasce, che una mattina ti svegli e dici Oddio, devo raccontare questa storia che pesca dentro di me, come tutti i testi, come per tutti gli scrittori, immagino. E quindi mette insieme pezzi del passato, del mio passato, di personaggi che ho conosciuto e vuole raccontare un'anima, una ricerca di un affetto importante come quello paterno e quindi un affetto senza tempo. Poi è ovvio che per una bambina il padre rappresenta anche qualcosa di più, no? E quindi tutte le bambine sono innamorate del loro papà a un certo punto della vita, no? E anzi, la vita ti dimostra a un certo punto che non puoi sposarti col papà, come a un bambino che non ti puoi sposare con la mamma. Però insomma nasce dall'esigenza di raccontare una storia molto intima e l'incontro con Paola, io questo testo ce l'avevo lì da un po' di tempo, l'incontro con Paola è stato importante perché io in questi anni ho pensato spesso di fare la spiaggia, ma non avevo l'attrice giusta perché volevo qualcuna, un'attrice che potesse incarnare l'innocenza, ma anche l'ironia, ma anche la profondità, ma anche il dramma, essere credibile come bambina, come donna, come... e quindi mi sono messo lì e ho aspettato, non ho avuto fretta e il destino poi ci ha fatto incrociare. Allora lì c'è la regista Carolina che ogni tanto mi fa i segnacci che dobbiamo stringere perché abbiamo superato i tre minuti, lo fai tu il lancio fino al Teatro della Cometa, fino al... Al 12 novembre venite sulla sulla spiaggia, sono felicissima perché ieri sera abbiamo avuto tanti feedback positivi di persone emozionate e felici perché a teatro si può vivere un'esperienza emozionante e questo è il caso. Quindi fino al 12 novembre al Teatro della Cometa, vi aspettiamo anche in costume da bagno e portatevi anche la crema solare, insomma sì. A presto, ciao.